Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio Delaini, sono un ingegnere appassionato di certificazione CIE e sicurezza macchine e in questi 60 minuti parliamo di come contestare un macchinario che non piace all'utilizzatore. Ho invitato Silvia Dronon, che è un avvocato civile, e Diana Michelazzo, che è un avvocato penale. Perché ho invitato due avvocati, una civile e una penale? Perché spesso quando si litiga col costruttore, lui non ascolta, lui non risponde, un po' se ne frega. E tu rimani lì col cappanone occupato da questo macchinario immenso e non sai a che santo votarti. Chiami un perito come me per farti fare la relazione, ma quello a favore è chiedere al mercante. Allora in questi 60 minuti mi introduco l'argomento e dico cosa cerco di solito, quali errori ci sono di solito, cosa bisognerebbe fare subito. Silvia Dronon e Diana Michelazzo ci raccontano gli strumenti che abbiamo in mano, che non vuol dire che funzionino in tutti i casi e sempre, sono gli strumenti a disposizione. Poi, caso per caso, bisogna analizzare se servono, se sono utili, se siamo nei tempi giusti. Perché c'è il dramma che spesso l'utilizzatore si accorge che la macchina non gli piace più qualche anno dopo. E non è detto che qualche anno dopo gli strumenti che abbiamo in mano siano ancora utili e utilizzabili. Apri i miei appuntini. Allora, come funziona? La storia inizia sempre perché l'utilizzatore compra un macchinario sulla base di un'offerta e questa offerta gli promette che questo macchinario farà le mele bellissime. Poi viene installato un macchinario e queste mele bellissime non escono fuori, escono un po' maccate o non con le specifiche che gli hanno state dette, oppure non con la produttività lì, o l'attrezzaggio non è così veloce. In quel caso l'utilizzatore inizia a chiamare l'assistenza e inizia a chiamarla sempre più spesso questa assistenza per cercare di sanare queste mancanze, perché lui non ci crede che quella macchina non sia in grado di fare quella cosa, gli sembra inconcepibile. Il costruttore dall'altra parte si stufa perché vive il cliente come rompicoglioni, che non sistema mai le cose, che lo chiama in continuazione, che non lo paga regolarmente perché l'utilizzatore arrabbiato inizia a non saldare le fatture e inizia a litigare. E come funziona? L'utilizzatore inizia a far scrivere e il costruttore non risponde più. Oppure l'utilizzatore continua a scrivere e il costruttore manda le ingiunzioni di pagamento. E quando si arriva a questo punto il rapporto è rotto. Quindi l'utilizzatore non ha più paura di rinunciare all'assistenza, non ha più quel legame di matrimonio che c'è utilizzatore e costruttore e decide di liberarsi di quella macchina lì. Decide che quella macchina lì non è più la sua macchina per il suo capannone e quindi fa guerra. E quindi chiama uno come me per dire mi dici cosa non va in questa macchina? E io cosa trovo di solito? Quali sono le due linee guida che bisogna seguire? Le prestazioni mancate che erano state promesse in offerta e quindi la macchina aveva promesso di fare queste cose in questo tempo e in queste condizioni ed è manchevole e la macchina non è conforme alle direttive di prodotto. Quindi direttiva macchina, direttiva compatibilità elettromagnetica, PED, ATEX o quelle che si applicano, la RED, eccetera. Il secondo caso è quello di cui parliamo in questo corso. Quando usiamo la sicurezza di prodotto come argomento legale per rimandare indietro la macchina. Una macchina che ha scontentato. Non è che lo fai per non pagare un saldo. Lo fai perché te ne vuoi liberare dalla macchina. Perché se lo fai solo per non pagare il saldo di solito non funziona. Se lo fai per trattare sul prezzo tenendoti la macchina, quello usi gli avvocati solo come arma di ricatto. Ma devi essere parecchio bravo per riuscire a fare questa cosa qua. Quali sono le mancanze che trovo di solito? Partiamo dalla documentazione. I documenti principalmente sono tre. C'è la targhetta CIE, la dichiarazione di conformità e il manuale. La targhetta CIE ogni tanto non c'è. Si sono dimenticati di metterla. Perché nel litigare, in questa assistenza continua che tutto andava storto, l'operaio non ha messo il CIE. Quindi, essendo un obbligo a direttiva macchina di aver apposto il CIE, la targhetta, con ragione sociale, sede legale, anno di costruzione, peso, tensione e il marchio, se manca, non ha marcato CIE la macchina. Oppure c'è la targhetta, ma manca l'anno, non è compilato, non c'è il nome della macchina. C'è solo la targhetta ononia con il marchio stampato nel costruttore. E anche lì è assolutamente segnalabile al mese. È assolutamente non conforme alla direttiva macchina. Terza e l'ultima mancanza che può succedere sulla targhetta è che hanno la targhetta metallica e il CIE è staccato. E questa è la classica cosa. Che non è così che si marca la macchina, perché il CIE deve essere dentro, la targhetta deve essere un unicum che unisce la targhetta, quindi la macchina, al manuale, alla dichiarazione di conformità. Secondo cosa da guardare, chi ci può permettere di contestare sempre la macchina sulla base documentale, la dichiarazione di conformità. Il primo argomento che guardo subito è chi l'ha fermata. Può capitare che i costruttori facciano firmare la dichiarazione di conformità all'RSPP e l'RSPP non ha il potere di firma sulla dichiarazione di conformità, perché lo può fare solo il datore di lavoro del costruttore. L'RSPP è il responsabile di sicurezza, prevenzione e protezione dell'81, non c'entra niente. Secondo errore, l'ha firmato un consulente. Il consulente non può firmare un insieme di macchina a dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità la può firmare solo chi ha progettato, realizzato, immesso sul mercato o fatto la messa in servizio di una macchina. Il consulente non ha fatto nessuna di queste quattro cose. Quindi quel documento è stato firmato da una persona che non ha il potere di firmare quel documento. Quindi quel documento non è valido. Quindi la macchina non è correttamente marcata C. Ed è un ottimo appiglio che di solito gli avvocati usano. Perché dicono, come la targhetta, che non avendo correttamente il mercato C. E non potevi venderla. Essendo andato contro un patto tra privati contro la legge non vale e questo genera tutto l'appiglio che poi genera il casino che è una causa. Premetto, litigare costa. Ci perdono tutti quando si litiga. Però quando si litiga bisogna sapere che strumenti abbiamo in mano. se si litiga senza conoscere gli strumenti ci si fa male di sicuro. Terzo argomento è il manuale. Il manuale è normalmente un coppia e incolla di altri manuali. Il manuale è un canovaccio che tu usi per tutte le macchine e ci metti la foto della macchina venduta. Per cui normalmente è non conforme. Quali sono gli errori tipici nei manuali che trovo delle macchine che sono in vendita o che sono in giro? che dovrebbe rispettare il punto allegato 1 punto 174 la direttiva macchine c'è un elenco puntato con tutti gli argomenti che il manuale dovrebbe trattare e quegli argomenti non ci sono. Quali sono degli esempi? Manca la dichiarazione di conformità all'interno del manuale. Dovrebbe esserci una copia di dichiarazione di conformità non firmata o i riferimenti delle normative applicate. Di solito non c'è. Dovrebbe esserci un capitolo che spiega come fare manutenzione alla macchina non una manutenzione straordinaria ma una manutenzione ordinaria. Perché è importante se manca la manutenzione ordinaria? Perché ti dicono che non puoi aggiustare la macchina quando si rompe e che quindi togli il normale uso alla macchina. Tu non avendo spiegato come aggiustarle in modo normale non è reso abile il tuo cliente a usare la macchina in modo normale e quindi è una cosa che inficcia il contratto tra le parti. Un'altra cosa che manca sempre è la descrizione generale della macchina che sarebbe questa macchina pensata per fare questa cosa in questo luogo con questa destinazione di uso completa la descrizione di solito ci sono solo i disegni ci sono solo gli schemi ci sono solo l'elenco dei pezzi di ricambio ma anche la descrizione generale della macchina si rifà all'offerta che è assolutamente insufficiente e quindi questa cosa qui fa cadere un po' tutta la struttura il manuale e quando ti rivolge al giudice tu gli dici ma questo manuale è un copio e incolla di altri manuali un manuale vuoto non è un manuale che mi aiuta a usare la macchina è un manuale solo formale per dire l'ho fatto in ultimo che me l'ho dimenticato la dichiarazione di conformità spesso e volentieri ha il difetto di citare norme sbagliate norme vecchie norme scadute faccio degli esempi ho visto dichiarazioni di conformità citare l'81-08 che è la sicurezza sulle grie di lavoro che non c'entra niente con le macchine e gli oggetti ho visto non citare la direttiva ATEX in macchine che usano solventi lavaggio dei metalli e quindi non aver minimamente considerato rischio esplosione fa emettere una bomba dentro il cappannone ho visto usare norme tecniche scadute ho visto vendere macchine con tante dichiarazioni senza la dichiarazione dell'insieme oppure vendere linee come un insieme quando invece erano tante macchine separate e queste sono tutte non conformità che fanno credere fanno immaginare fanno vedere a un giudice a un CTU se nominano un perito che quel costruttore non sa quello che fa quel costruttore non ha mai letto la direttiva macchina questa è la parte documentale poi si passa alla parte fisica la parte fisica della macchina sei lì incidi con un manutentore o un operaio che sa usare la macchina e inizi a intervestarlo e guardi una funzione alla volta e cerchi i RAS non rispettati più comuni tipo gli spigoldivi gli organi in movimento che tu devi usare mentre si muove tipo l'intrappolamento che non ci sia nessuna via di fuga nel caso delle cabine tipo rischio caduto dall'alto quando diventerà regolare le serrande in alto in quota sulla macchina tipo che non hanno pensato a come far fare le cose in sicurezza le operazioni in sicurezza e i monotentori quindi tu dici dal parte documentale la macchina è carente dalla parte funzionale la macchina è pericolosa è una perizia e la dai in mano all'avvocato civile perché normalmente sono due binari prima si comincia col civile la controparte non ci crede che tu farai veramente quello che dici che fai e poi magari si accende anche il penale e qual è il problema che anche a baio non dorme se tu minacce e basta il costruttore non ti crede hai bisogno di fargli vedere che poi sei pronta ad azzannargli i polpacci o di dargli indietro la macchina solo che smontare una macchina non è come ridare indietro un bicchiere magari ci metti due giorni a smontarla magari ci vuole un carico eccezionale per rimandarla indietro e magari non puoi smontarla se ti aspetti di fare un processo civile con CTU ATP periti che bisogna andare a vedere farla funzionare quindi è mezzo capannone utilizzato mezzo capannone occupato quindi adesso passo la palla a Silvia Zuenon che è l'avvocato civile che ci spiega come si fa quali strumenti abbiamo in mano ok grazie Claudio facciamolo ora mi riaggancio al tuo argomento per fare una premessa doverosa tu ci hai detto che tendenzialmente da una macchina ci si aspetta a volte semplicemente che faccia il suo lavoro che quindi non abbia dei vizi o dei difetti di conformità che la rendano inservibile allo scopo a cui è destinata ma a volte si chiede anche qualcosa di più al costruttore cioè delle qualità promesse mi aspetto che quella macchina ad esempio lavori bene a basse temperature o ad alte temperature a condizioni di umidità elevate e via dicendo questi sono due capitoli che vanno tenuti separati perché noi adesso ci occupiamo più che altro del tema delle non conformità mentre quello delle qualità promesse è un tema vicino un tema fratello che non andiamo a trattare in ogni caso il punto di partenza per fare un'analisi è quello di capire quando hai comprato la macchina quali erano i documenti che ti sei scambiato con il costruttore ok c'era un'offerta che poi hai accettato immediatamente questa è forse una rarità perché molto spesso in verità abbiamo uno scambio di offerte che vengono rimpallate da una parte all'altra integrando esigenze facendo una negoziazione vera e propria su termini contrattuali di pagamento e questo fa sì che molto spesso non sia neppure facile capire qual è l'accordo su cui si è perfezionato un consenso tra le parti quindi la prima cosa che è importante dire quando non c'è un contratto un unico documentale firmato dalle parti è capire che cosa abbiamo pattuito e quello che consiglio è fondamentale tenere in ordine questa documentazione un ordine cronologico perché nel diritto civile la regola fondamentale è che il contratto è concluso quando il proponente riceve la a conoscenza dell'accettazione ok questo è il momento in cui si perfeziona con la precisazione che se Claudio mi fa una proposta con una macchina con queste caratteristiche io gli dico guarda no non mi va bene così la macchina deve avere queste altre caratteristiche non me la devi consegnare entro marzo non me la devi consegnare entro dicembre piuttosto che tutta una serie di altre specifiche quello che dice Silvia non è una accettazione condizionata è proprio una nuova controproposta per cui sarà Claudio che dovrà accettare ok quindi capite che alla fine l'ultimo che dice sia l'accettante il penultimo che fa la controproposta è il proponente e sull'ultima controproposta si va a cristallizzare la volontà delle parti ok questo è rilevante soprattutto quando uno crede di predisporre unilateralmente delle condizioni di vendita e alla fine andando a vedere questo rimpallarsi di scambi di mail si scopre che quelle condizioni di vendita in realtà sono ampiamente superate quindi primo tema che cosa hai firmato che cosa hai comprato tieni una traccia di questi di questi di questi scambi di documenti e alla fine accertati che quello che acquisti sia l'ultimo sia in qualche modo cristallizzato in un documento contrattuale che quantomeno ti sia chiaro a te che hai capito cosa hai comprato verifica alcune clausole che sono fondamentali cioè non focalizzarti soltanto sul prezzo cerca di capire per esempio qual è la garanzia che ti è stata data noi tendenzialmente se firmiamo un'offerta che si limita ad avere l'oggetto e il prezzo e magari le condizioni di assistenza dobbiamo essere consci che tutto ciò che non è previsto in offerta ce lo dice il codice civile ok o eventuali norme di legge se invece firmo un contratto più strutturato è verosimile che in quel contratto io troverò tutta una serie di regole per esempio sulla sulla garantia sulla sospensione dei pagamenti sull'assistenza che possono anche derogare al codice civile ok quindi lo scenario può essere duplice ho un contratto vado a vedere che cosa c'è scritto cerco di capire quali diritti mi dai quali diritti non ho non ho un contratto beh lì adesso cerchiamo di capire se non ho un contratto così preciso quali diritti sorgono da questa compravendita allora il tema che affrontiamo oggi che è quello della non conformità fondamentalmente ci impone di approfondire una norma del codice civile che è quella sulla garanzia per vizi cioè tipicamente ammettendo che non ci sia una espressa patruzione sul tema delle parti fondamentalmente chi vende è obbligato per legge alla cosiddetta garanzia legale si chiama legale proprio perché è un effetto naturale del contratto di compravendita quindi io vendo la macchina l'utilizzatore il leasing in prima battuta comunque immaginiamo il caso più semplice che non si passi tramite il leasing io che ho comprato quella macchina ho diritto ad essere garantito e quindi a vedere ridotto il prezzo o eventualmente a risolvere il contratto qualora emerga che quella macchina è affetta da vizi che la rendano inidonia allo scopo per cui è stata pensata per cui io la devo utilizzare ok a questo punto l'aspetto importantissimo da ricordare è che per far valere questi vizi io non ho un tempo infinito ho un tempo molto ristretto ovvero ho otto giorni di tempo da quando io scopro il vizio se è un vizio occulto oppure otto giorni da quando mi viene consegnata la macchina o è stata fatta il collaudo verosimilmente per denunciare questo vizio del costruttore ok se non denuncio dentro questo termine o se magari molto spesso quello che accade è che inizio a fare le telefonate magari passa una settimana due settimane ma si la faccio provare con l'assistenza viene fuori che io so che ho quel vizio da un mese ma la prima contestazione formale fatta per iscritto che è quella che poi mi può provare il rispetto dei termini la faccio molto tempo dopo quando sono già passati quegli otto giorni e quindi in un contenzioso è facile che controparte mi contesti che sono decaduta dal termine per contestare il vizio questo è il primo termine la seconda cosa che è importante sapere è che in ogni caso se non abbiamo un contratto diverso tra le parti una previsione diversa dalle parti per poter far valere la garanzia io ho soltanto un anno di tempo ok che decorre dalla consegna che cosa vuol dire è che se è passato un anno da quando io ho comprato quella macchina potrei scoprire il vizio potrei scoprire un vizio che emerge per esempio un anno un giorno dopo potrei denunciarlo tempestivamente negli otto giorni di tempo però comunque l'azione di garantia si è prescritta e quindi io non posso chiedere niente al mio venditore questo forse è una delle ipotesi più frequenti che si possono verificare una delle ipotesi più frequenti che si possono verificare perché in macchinari estremamente complessi è verosimile che la scoperta del vizio avvenga anche uno o due anni dopo da quando il bene è stato consegnato quindi anche qui un primo suggerimento che possiamo dare è non appena io ho il sospetto che ci sia qualcosa che non funziona non devo dormire sugli allori cioè devo essere molto solerte magari chiamare un tecnico un periodo che possa farmi un primo esame della macchina e possa dirmi no guarda stai tranquillo è tipico su questo tipo di prodotto piuttosto che guarda che secondo me hai preso non hai fatto un buon affare e quindi già sono allertato perché credetemi questi tempi sono veramente estremamente ridotti e ovviamente ci sarebbe da fare un'altra precisazione molto spesso accade che il cliente si rivolge all'avvocato quando ormai questo termine di un anno è già spirato è già scaduto quindi che cosa è stato poi stabilito dai tribunali che cosa qual è lo strumento che resta in mano all'avvocato per contestare il difetto di conformità è uno strumento che porta un nome un po' altisonante un nome latino che è il cosetto aliud pro alio che cosa vuol dire vuol dire ho comprato qualcosa al posto di qualcos'altro tornando all'esempio di prima credevo di comprare una macchina che faceva a me le tonde me le fa quadrate quindi quello che mi è stato consegnato è qualcosa di diverso per natura per consistenza per destinazione rispetto a quello che io ritenevo di comprare o comunque quello che mi aspettavo questo strumento è uno strumento che non è una garanzia è uno strumento che è stato creato dai nostri tribunali per dire che qualora il bene che tu hai comprato sia totalmente difforme da quello che era stato oggetto di accordo allora anche quando sono venuti meno i termini che abbiamo visto prima dell'anno dalla consegna puoi comunque chiedere o la risoluzione del contratto o o meglio e o il risarcimento del danno quindi come diceva Claudio sicuramente la strategia più transcian quella in cui dico guarda questa macchina non mi fa me le quadrate io vendome le tonde porta pazienza non me la posso tenere in casa quindi quando io voglio prendere una posizione devo prendere una posizione netta perché se io continuo a tenermi in casa una macchina e comunque il prodotto che mi genera lo vendo lo metto sul mercato faccio un guadagno diventa poi difficile sostenere che quella macchina è l'esatto posto rispetto a quello che volevo quindi devo avere anche una coerenza nel comportamento è sicuramente più coerente il comportamento di colui che dice ho comprato una macchina che non fa il suo dovere io lì ci metto un nastro la vado a segregarla in una parte del mio capannone e intanto mi compro l'impianto B ha messo che abbia posto dove metterlo addirittura affitto un altro capannone per mettere la macchina che dismetto e la nuova me la tengo in casa che funziona bene allora lì avrò la possibilità anche di dimostrare che ho avuto un danno ho dovuto addirittura spendere qualcosa per smontarla per stoccarla e l'azione ha una sua coerenza ok questo proprio per essere precisi perché è vero che questo strumento dell'alio il proalio lo abbiamo in mano è un'arma che si può utilizzare quando è tardi però diventa difficile utilizzarla solo per per bypassare i termini devo già agire con la consapevolezza che ho scelto un certo tipo di percorso altrimenti poi anche sostenere certe tesi in giudizio è abbastanza difficile e tornando su quelle diciamo difformità documentali che ci ha indicato Claudio vi posso già segnalare che certa giurisprudenza ritiene che l'assenza ad esempio della marcatura CE piuttosto che l'assenza o la violazione di norme tecniche della tirativa a macchine possono costituire il presupposto per dire ho comprato qualcosa che è totalmente diverso da quello di cui avevo bisogno cioè mi serviva un macchinario che potevo immettere nel mercato che io potevo utilizzare legittimamente e invece ho qualcosa che non è minimamente conforme alla normativa vigente allora questo strumento può essere utilizzato un altro aspetto a cui posso fare cenno proprio velocissimamente è che spesso mi capita di vedere tra le parti la stipula di contratti un po' borderline che vengono chiamati forniture e posa in opera di un certo impianto di un certo macchinario allora preciso che questa fornitura e posa in opera è una terminologia estremamente pericolosa e a tecnica per il lessico giuridico perché non consente di capire se io sto facendo un contratto di compravendita o un appalto quindi nel 99,9% dei casi con contratti di questo tipo io dovrò andare in giudizio a battagliare per spiegare che è un appalto piuttosto che una vendita allora la differenza qual è è che di solito se io riesco a provare che è un appalto il termine per la prescrizione della garanzia nell'appalto è di due anni contro l'anno della vendita quindi è più favorevole e la decadenza per la denuncia del vizio di otto giorni della vendita sale a 60 giorni nell'appalto quindi in alcuni casi la strategia che si cerca di seguire per rientrare in quei termini e dire guarda è vero che tu mi hai venduto un macchinario ma la componente di montaggio di installazione di assemblaggio era decisamente maggiore era decisamente più importante rispetto a quella del singolo materiale ecco magari non accade facilmente nei macchinari industriali però è una delle tesi che si vedono percorrere in tribunale e quindi anche in questo caso se vedete che vi fanno firmare un contratto di fornitura e posa in opera fatevi qualche domanda cosa state facendo state facendo una vendita o state comprando un servizio in cui c'è anche la fornitura di alcuni pezzi perché le conseguenze sono diverse sul piano pratico ecco io passerei la parola a Diana in caso mai dopo valutiamo se vale la pena di approfondire altre tematiche perché il senso è che in alcuni casi agire soltanto con una forma di tutela civilistica potrebbe non essere sufficiente potrebbe non essere l'unica l'unica soluzione o magari non consente di fare una leva passata in Italia psicologica sul costruttore adeguata un'ultima precisazione sappiamo tutti che i tempi della giustizia sono molto dilatati quindi nel momento in cui io dovessi riscontrare un vizio sulla mia macchina il primo suggerimento quindi è quello di muoversi tempestivamente con il mio tecnico cercare di capire subito se è un problema mio che non la so usare della macchina che è costruita male se sono in tempo per contestarla al costruttore e quindi evitare di stare lì a rimpallarsi le colpe o a fare un grande scambio di me cerchiamo di essere pragmatici e andare subito al sodo capire se la macchina riesce o non riesce a fare il lavoro e lo strumento che poi aiuta nel processo si chiama accertamento tecnico preventivo o comunque consulenza tecnica preventiva che è un procedimento possiamo dire veloce che consente di fare una fotografia alla macchina fare proprio una vera e propria perizia sulla macchina e stabilire se quella macchina ha i vizi che io contesto se fa il lavoro che io dico che non fa e viceversa e questa fotografia diventa molto utile in tutti quei casi in cui io di quella macchina voglio sbarattarmi se io la voglio smontare e togliermela dai piedi l'unico strumento che ho a disposizione per fotografare l'inadempimento del costruttore e cercare poi giustizia con i tempi della giustizia è questo strumento dell'accertamento tecnico preventivo o comunque di una consulenza tecnica che potrebbe poi essere volta ad una transazione tra le parti quindi un accordo che si trova al di fuori del tribunale ecco passo quindi adesso la parola a Diana per la parte diciamo più del penale grazie Silvia allora premessa doverosa anche da parte mia vista dal mio punto di vista dal mio punto di vista lo strumento civilistico rimane quello più adeguato lo strumento della quarela o comunque dell'attivazione di un procedimento penale che come vedremo però non dipende solo dalla nostra volontà va usato in maniera accessoria direi sussidiaria rispetto all'attivazione del procedimento civile perché rimane comunque imprescindibile è vero siamo tutti d'accordo che quando arriva la letterina dell'avvocato che ti minaccia come diceva giustamente Claudio prima di fare qualcosa e poi ti do questo termine di 5 giorni dopo 5 giorni non succede assolutamente nulla questo può ingenerare da parte di chi riceve la diffida l'idea tanto non farà niente neanche fra 6 fra 7 e probabilmente neanche fra 100 giorni quindi probabilmente cercare di fare un po' più di fare presa su questo su questo aspetto usando anche gli strumenti penalistici potrebbe avere un senso potrebbe avere però più senso effettivamente direi più che altro a scopo di chiamiamolo tracing passatevi il termine per semplificare psicologico non credo purtroppo che possa essere lo strumento da solo risolutivo e per quale ragione la sicurezza viene sempre viene sempre penalisticamente parlando tirata in ballo quando c'è l'infortunio è inutile che ce lo nascondiamo ma quando succede l'infortunio e succede l'infortunio magari a causa della macchina il problema è anche mio non solo del costruttore quindi tante volte alzare la mano e dimostrare a un pubblico ministero o lo sfido al quale ci dovremmo rivolgere per poi portare avanti le nostre istanze magari al pubblico ministero se decidiamo di intraprendere una strada più informale diciamo rispetto alla strada formale della denuncia querela potrebbe anche essere una sorta di autovol perché dico questo perché se io sono un imprenditore e ho nel mio capannone la macchina di cui discutevamo prima che mi occupa mezzo capannone e non la posso smontare non la posso restituire devo lavorare andare a dire che quella macchina non è sicura comporta ovviamente che io la devo affermare io non la posso più utilizzare quindi vado a crearmi anche automaticamente un danno dal punto di vista commerciale produttivo direi perché sto fermo non posso produrre e addirittura corro il rischio di se continuo a continuare se continuo a utilizzare la macchina che se qualcuno si fa male poi passo anche io dei brutti guai quindi qua bisogna stare molto attenti bisogna capire quando è il caso di alzare la mano come dico io o quando invece è il caso di continuare a gestire la cosa parallelamente anche qui farei una distinzione agganciandomi a quello che ha detto Silvia perché un conto è il vizio della cosa che è quello di cui ha discusso Silvia fino adesso un conto è il tema della sicurezza cioè non è detto che la macchina che presenta un vizio perché mi fa le mele rotonde piuttosto che le mele quadrate sia necessariamente una macchina pericolosa la macchina potrebbe essere sicura quindi potrebbe non esserci nessuna ragione per me per bloccare quel tipo di produzione con quella macchina perché andrò solo a contestare che le mele sono quadrate invece che tonde o viceversa quindi non avrò la necessità di bloccare il macchinario perché sentirò il mio tecnico chiamerò il Claudio della situazione e gli dirò ascolta la macchina che io ho acquistato con tutte le considerazioni che abbiamo fatto prima mi fa le mele rotonde io le volevo quadrate o viceversa ovviamente viceversa le fa è al contrario ma la macchina che sta lavorando in questa maniera è comunque sicura e mi risponde sì la macchina è sicura bene a questo punto io non ho la necessità di bloccare la produzione quindi potrò attivando tutti gli strumenti di tutela civilistica tra la diffida poi eventualmente la citazione o quello che il mio avvocato riterrà necessario potrei andare a fare un po' di pressing comunque nei confronti del costruttore che non intende rispondere del danno e mi dice a fare i tuoi senti le mele quadrate invece che le mele tonde andando a presentare appunto una denuncia e ci sono degli articoli del codice penale che effettivamente tutelano questo tipo di situazioni e andiamo a vedere per esempio il classico è l'articolo 515 del codice penale che parla della frode nell'esercizio del commercio questo però è un reato che si contesta in via sussidiaria rispetto al delitto di truffa che è quello che viene più usato per quanto riguarda le transazioni commerciali però la truffa ha un qualcosa in più rispetto alla frode nell'esercizio commerciale la truffa richiede che ci siano degli artifici e dei raggiri che devono essere posti in essere da parte di chi ti vende la macchina in questione ora bisognerà poi andare a dimostrare e credo che questo possa essere un po' complicato salvo poi Claudio non si possa spiegare se ci sono dei modi per capirlo se dobbiamo dimostrare noi se il costruttore nel venderci nel presentarci il prodotto che poi effettivamente dopo era diverso a posti in essere questi artifici e raggiri quindi se noi andiamo a vedere cosa ci dice l'articolo 515 che potrebbe essere probabilmente più utile ci dice chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spazio aperto al pubblico non sarà ovviamente il nostro caso consegna all'accurente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile per origine provenienza qualità o quantità diverso da quello dichiarato costruito e poi la norma continua con la stanzione ecco in questo caso il fatto di fare delle mele quadrate invece che le mele tonde potrebbe effettivamente essere un caso in cui mi è data una cosa mobile la macchina che per qualità è diversa da quella che tu mi avevi promesso ma però bisognerà andare a discutere e vi assicuro che i casi sono estremamente colorati e sono estremamente diversi l'uno dall'altro su che cosa si possa intendere anche per la cosa mobile perché qualcuno potrebbe anche venire a contestare che un pezzo di una macchina non sia di fatto una cosa mobile quindi se io ho una linea di produzione che mi occupa un capannone intero posso dire che quella è una cosa mobile non lo so e allora cosa posso andare a dire però il problema la difformità qualitativa c'è solo su un pezzo perché questa linea di produzione in realtà è fatta da più macchine nel suo insieme allora posso provare a forzare un pochino l'interpretazione di fatto quando si fanno questo tipo di qualele poi bisogna porsi anche nell'ottica di andare a vedere esattamente che cosa dice la norma e cercare di capire se ci sono anche degli altri casi quindi se c'è della giurisprudenza che può confortare questo tipo di scelte un altro tipo di reato che può tornare utile al fine di contestazione però è più riferito a un caso specifico è il 517 che prevede la vendita di prodotti industriali con segni mendacci allora qui si apre tutto il tema poi anche di come hai ingannato il tuo compratore sull'origine e sulla qualità di quel prodotto quindi anche qui bisogna poi diciamo spiegare bene all'interno della querela cercando di riportare all'attenzione del pubblico ministero affinché sia si è invogliato a portare avanti l'azione penale per questo tipo di contestazione cercare appunto di spiegare esattamente in che cosa consiste questa difformità quindi la querela a mio avviso va scritta già con l'aiuto di un tecnico cioè io mi faccio affiancare da il perito della situazione il tecnico della situazione che mi spiega da subito dov'è il problema in modo che io posso spiegare poi al pubblico ministero che verosimilmente non sa nulla di macchine e che probabilmente fino al giorno prima si occupava di reati contro il patrimonio e deve capire se portare avanti o meno questa contestazione ecco altri reati utili io dico utili non sono i reati utili insomma articoli del codice penale che possono essere utili nella contestazione al produttore potrebbero essere il 473 e il 474 che si riferiscono più propriamente alla contraffazione e all'alterazione e all'uso dei marchi o segni distintivi e qua c'è tutto il tema della marcatura CE di come usi il marchio CE prima che ci collegassimo parlavamo con Claudio di un caso di una sentenza che leggevo questa mattina dove l'inganno era riferito al marchio CE perché c'era una partita di occhiali che era stata venduta dove il marchio CE era stato spacciato per il marchio di conformità in realtà voleva dire China Export quindi ci sono anche tutti questi casi da andare ad analizzare c'è però un tema processuale importante che è il fatto della procedibilità quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso ovvero sì potrebbe essere utile a fare tutto ciò per fare un po' di pressing nei confronti della nostra contoparte per indurla a scendere a compromessi piuttosto che instaurare una produttiva commerciale volta la riduzione del prezzo senza andare in causa e aspettare 5 anni 6 anni perché finisca la causa civile il tema è la procedibilità d'ufficio di questi reati cosa vuol dire? vuol dire che può essere che non serve la quarella di parte e anche se io presento la quarella come abbiamo detto fino ad oggi e poi decido di ritirarla perché mi sono accordato con la controparte e il procedimento va avanti lo stesso e quindi questo tema del tracking psicologico mi torna diciamo mi si ritorse contro perché io ho instaurato o anzi non ho instaurato perché è il pubblico ministero che decide se portare avanti l'azione penale io ho dato impulso dicendo al pubblico ministero manifestando raccontando al pubblico ministero che cosa è accaduto e che appunto il fatto di essere stata vittima di questa frode nell'esercizio del commercio se decideremo di contestare al 515 piuttosto che che un'altra norma che riterremo utile però poi se ci accordiamo io decido di ritirare la quarella il pubblico ministero ritiene che io effettivamente sia stata vittima di quel reato il processo va avanti quindi potrebbe addirittura essere un rimedio peggio del male perché mi va a bloccare la famosa trattativa di cui ci parlava quindi diciamo che i rimedi vanno sempre gestiti con un occhio di riguardo bisogna capire quello che vi consiglio assolutamente per esperienza e capire con chi abbiamo a che fare dall'altra parte perché un conto se ho il megacolosso diverso che probabilmente capito riceve una quantità infinita di lettere di contestazioni all'ufficio legale pronto a rispondere con maniera abbastanza standardizzata a non rispondere a fatto oppure non ha nessun interesse a affrontare dei procedimenti penali perché appunto ha la squadra pronta o comunque sa che il danno che ne deriverà perché poi di fatto bisogna anche andare a vedere effettivamente quanto male poi fa nella sostanza questo tipo di questo tipo di azione bisogna andare a vedere se ne vale veramente la pena quindi capire se può effettivamente far breccia dall'altra parte altrimenti attenzione potrebbe essere in realtà pericoloso è evidente che il tema della sicurezza in realtà esce in maniera preponderante nel penale nei momenti in cui c'è l'infortunio cioè non nascondiamoci è ovvio che una procura che appunto ripeto è lente che deve è il pubblico ministero che decide se andare avanti il fatto che noi presentiamo una forella al pubblico ministero non vuol dire che dopo lui la ritenga adatta per seguire l'azione penale potrebbe benissimo darsi che quella forella muoia sulla sua scrivania e non abbia poi nessun seguito quindi anche lì il tema del tempo può essere che questa cosa parta tra tre anni o comunque entro i termini di prescrizione del reato a volte partono anche quando i reati sono già prescritti quindi capite che purtroppo non è non possiamo dire che neanche questa sia la soluzione più più veloce e più efficace dipende veramente dalle situazioni dipende anche territorialmente dove mi trovo dipende da che procura quanto attiva quella procura se ci sono dei magistrati che si occupano molto di questo tipo di materie quindi hanno più attenzione e più diciamo deduzione ad occuparsi a questo tipo di attività perché appunto tendenzialmente viene sempre riservata la sicurezza quando si manifesta l'infortunio ma per noi è troppo tardi quando c'è quando c'è l'infortunio un'altra via potrebbe essere quella di passare la palla all'ospital e come anche qui stando bene attenti perché se io so di avere una macchina appunto che ha dei vizi è un discorso se io so di avere in casa una macchina che non è sicura e non la fermo sono guai nel momento in cui viene l'ospital è evidente che rileverà il problema e mi farà la prescrizione nel senso del 758 quindi ripeto è sempre il cane che si morde la coda lo spisel però potrei attivarlo per diciamo in maniera informale fermando la macchina o comunque cercando di trovare intanto un rimedio con il mio consulente perché mi accorgo che riesco intanto a porre rimedio mi accordo con lo spisel di fare una procedura ad hoc per la gestione questo si può fare voglio dire a prescindere dal fatto che sia stata elevata o meno la contestazione che sia il verbale di prescrizione quindi comunque un colloquio costruttivo dopo mettergli diciamo a spagliacendere il campanello di fare magari una segnalazione al MISE allora lì si apre tutto quell'altro tema della contestazione della macchina a livello del ministerio con la procedura che sapete che è lunghissima però effettivamente se poi si chiude male per il costruttore si chiude molto male perché implica anche il ritiro dal mercato di tutte le macchine vendute e la metta norma quindi anche quello può essere e sono tutti strumenti purtroppo che sono lunghi e molto macchinosi nella loro attivazione capisco che la diffida a volte rimanga nel cassetto e non faccia paura non è detto che neanche questa tro sia effettivamente la via più veloce l'ultimo tema giusto perché era nella paletta di giusto farne riferimento questi reati di cui abbiamo parlato 515 517 in particolare sono rientrati nel novero dei reati presupposti della 231 la 231 sapete la responsabilità amministrativa degli enti che comporta in caso di accertamento di questi di questi reati anche l'imputazione passatevi il termine della società quindi dell'ente ed anche quello implica che ovviamente non si può parlare di responsabilità penale perché la responsabilità penale è personale se non puoi incolpare una società quindi c'è questo meccanismo della 231 ma non è il tema della giornata però probabilmente gli addetti ai lavori sapranno quantomeno di cosa stiamo parlando in questo caso anche qua andare a smuovere le acque e creare il rischio che addirittura si possa vedere una contestazione di questo tipo che è veramente pesante per lente anche questo potrebbe essere effettivamente utile utile nei limiti in cui non mi si ritorce contro quindi sempre attenzione da chi ha la mia controparte attenzione a capire se ho un problema di sicurezza un problema di vizi per capire anche da che parte da che parte muovermi se poi ci fosse addirittura un artificio un raggiro e a capire con il mio consulente di essere stato completamente fregato da parte del costruttore potrei anche pensare di querelarlo per truffa in quel caso poi c'è anche la procedibilità querella salvo delle aggravanti che non so del caso e quindi là lo strumento diventa più diventa forse più efficace però a mio avviso è un po' tirata come interpretazione forse le altre norme sono un po' più attinenti un po' più specifiche forse possono essere degne di maggiore attenzione da parte dell'organo inquilente io direi che ringrazio Silvia Diana e facciamo un recap facciamo un attimo in attesa se arrivano delle domande mi è arrivata una domanda su via Whatsapp me l'hanno mandata questa volta perché ormai domande mi arrivano in tutti i modi mi hanno chiesto di fare un accenno a come funziona la segnalazione al mise la segnalazione al mise funziona che l'azienda utilizzatrice o un perito può fare una relazione in cui dice io vedo oggi 25 marzo 2021 scusate la macchina in questi luoghi in compagnia di faccio l'analisi dei rest e dico tutte le mancanze faccio l'analisi dei rest anche documentale dico tutte le mancanze mandiamo una bella raccomandata al ministero sviluppo economico che è l'ente di controllo sulla conformità dei prodotti e poi io non so più niente il mise si attiva se si mi prende sul serio si attiva mando una lettera a sua volta una raccomandata al costruttore in cui dice mi sono stati contestati questi rest dimmi come li hai gestiti dammi l'elenco delle macchine vendute uguali a quella segnalata il costruttore risponde e il mise legge la risposta e può fermarsi lì o può dire no non mi va bene e manda degli ispettori a vedere la macchina a caso sulla lista segnalata non per forza chi ha fatto la segnalazione a caso sulla lista segnalata e in questo caso se valutano che la macchina è realmente pericolosa si aprono due strade o rimetterle tutte a posto o ritirarle tutte al mercato e qua si apre un ginepraio perché tutti gli utilizzatori che hanno la macchina segnalata che si trovano in casa lente di controllo e si trovano le macchine ferme poi a loro volta potrebbero fare richiesta danni perché hanno comprato una macchina che non andava bene eccetera eccetera questa cosa qua l'ho vista succedere un paio di volte ma il mise è una cosa lentissima quando invece interpelliamo lo Spresal lo Spisal la TS l'Ulss l'ASL a seconda della regione cambia nome è un disastro sta cosa l'Uopsal lente di controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro a seconda dell'UPG a seconda dell'ufficiale con cui parlo la risposta cambia il primo timore che ha l'UPG della TS è di quello di dire io non faccio consulenza io non vengo lì a pagamento a dirti che la macchina non va bene io non posso essere figurare come uno che prende la mazzetta per venire a dire che la tua macchina non va bene lui dovrebbe venire lì vedere la macchina che va farti il divieto d'uso e farti il 754 per come sistemarla ma tu se stai attivando l'azione penale non puoi dire che la stavi usando la macchina non dovevi usarla è vero che se hai delle relazioni informali con loro una strada la trovi magari la segnalazione la fanno anche loro magari loro vanno a trovare una macchina simile presso un concorrente e lì si apre però quelle sono altre strade le strade informali siccome non sono ufficiali dipende sempre da altre vie dalle relazioni sì dalla relazione personale l'autorevolezza che hai quanto ti credono eccetera eccetera il civile il civile funziona o non funziona il problema del civile è che è lento e tutti i costruttori di macchine lo vivono come naronia perché spendi un sacco di soldi in avvocati ma raramente hanno timore poi di perderlo perché è sempre una lotteria motivo per cui tutti abbiamo le armi spuntate l'unica vera arma è dire io la macchina non la uso più te la riprendo indietro la macchina è pericolosa per questi principi qua tu mi hai venduto una macchina promettendomi le mele mi fa bicchieri fai un pacchetto unendo le vostre due competenze e lì l'ho visti i soldi tornare indietro lì ho visto nullare i contratti lì ho visto cambiare le carte in tavola però deve esserci una coerenza tra quello che io sto minacciando e quello che faccio non deve essere che io abbaio poi non faccio niente però non deve essere che io dico che non la uso e poi in realtà la uso perché con l'industria 4.0 si vede che la sto usando adesso le macchine sono interconnesse e quindi se io faccio tutto questo casino per pagare non avrà vero uno sconto poi in realtà la macchina la uso tutta la credibilità del procedimento civile scende un po' perché poi verranno depositati gli atti in cui si vede che la macchina veniva usata e quindi se veniva usata non faceva così tanto schifo quindi questo qua è il contesto gli strumenti sono utili se usati bene gli strumenti sono utili se contestualizzati in una situazione perché se io ho la macchina A che non mi fa contento e ne compro una B che mi fa contento e la A smetto di usarla e la B in un altro cappannone lì non hanno scampo i costruttori perché si vede che ne ho comprato un'altra si fa la differenza tra le due macchine si vede come la seconda macchina è più sicura della prima e lì il costruttore della macchina A con la segnalazione diventa tutto più credibile bisogna avere soldi infiniti Claudio anche qua io volevo fare una precisazione se me lo consenti perché avevamo detto che avevamo parlato un attimo anche dell'aspetto in cui c'era di mezzo il leasing quindi sempre a ragione di questa coerenza di cui stiamo parlando è importante segnalare che a maggior ragione nel caso in cui io quella macchina la sto utilizzando perché ce l'ho in locazione dal leasing io so che ho sempre un interlocutore ulteriore rispetto al costruttore quindi attenzione se la macchina presenta un vizio che è un difetto un problema che è immediatamente riconoscibile appena quella macchina mi è entrata in casa me l'hanno consegnata me l'hanno assemblata e io vedo quel problema lì io lo devo segnalare immediatamente al costruttore e anche al leasing e questo va sottolineato perché impone a chi compra la macchina di essere un po' avveduto cioè fate un tesoro di questi piccoli spunti che ha dato Claudio anche in merito a quelle grossolane non conformità che voi mi trovate sulla macchina perché è difficile dire dopo sei mesi toh mi sono accorto che la targhetta ci è non c'era cioè la targhetta è una cosa che si vede nell'immediato se io so che devo cercarla non è che mi accorgo dopo sei mesi perché mi ha detto il consulente cioè non ti serve il consulente tecnico per andare a cercare la targhetta a vedere se è compilata propriamente quindi quello è uno di quei viti uno di quei difetti che assieme a per esempio a un manuale del tutto in idoneo piuttosto che a una dichiarazione di conformità mancante io devo essere tempestivo nel rilevarlo e tanto più se c'è leasing di mezzo devo subito contestarlo un'altra cosa importante che non ho detto prima è quando io faccio la contestazione della macchina quindi scrivo vi consiglio sempre di scriverla di là che dopo siate tutto il giorno al telefono con l'assistenza del costruttore scrivete sempre formalmente quanto meno la prima richiesta la prima contestazione che deve essere circostanziata non può essere generica non posso stare vaga o meglio se non ho ancora ben capito qual è il problema della macchina posso farmi riserva di andarlo a determinare in un momento successivo quando il mio tecnico mi avrà fornito la consulenza però devo circostanziare il difetto che riscontro magari non so ancora dire se è dovuto al rullo piuttosto che alla pressa però intanto io dico guarda mi aspettavo che mi uscissero mele tonde mi escono mele rettangolari sospetto che questo sia dovuto a un difetto della parte XY o comunque alla componente Z mi riservo di farti pervenire una relazione approfondita da parte del mio consulente e per intanto in ogni caso ti notizio a valere per l'interruzione di qualsiasi termine decadenziale o prescrizionale del caso quindi mi raccomando sempre contestazioni che devono essere fatte per iscritto se c'è il leasing di mezzo ovviamente nel caso di vizio immediatamente riconoscibile lo comunico tempestivamente se invece del vizio me ne accorgo dopo lì come rapportarsi con il leasing dipende un po' anche dal tipo di contratto che ho con lui quindi gli sarebbe importante vedere il singolo contratto che hai stipulato con il leasing perché in alcuni casi i leasing dicono guarda tu utilizzatore veditela direttamente con il costruttore poi mi fai sapere altri leasing invece dicono no la strategia la concordiamo assieme e quindi ci muoviamo assieme eppure che le situazioni cambiano poi da leasing a leasing e quindi lì diventa interessante è utile vedere anche il contratto che è stato firmato con chi vi ha fatto il finanziamento e sempre perché la giustizia in Italia ha dei tempi abbastanza biblici un consiglio che si può dare è da un lato di non voler essere passatemi il termine troppo ingordi io mi rendo conto che questi macchinari costino uno sproposito che poi i leasing abbiano anche dei tassi importanti quindi una volta che si fa un acquisto sbagliato uno ha già speso tanti soldi e vorrebbe recuperarli l'ultimo centesimo perché brucia sappiamo che brucia però questa strategia non è sempre la più vincente in molti casi piuttosto che farsi cinque anni per arrivare a una sentenza che magari poi non ci non ci dà del tutto ragione che magari ci mette a carico le spese legali o le compense tra le parti molto spesso la vera vittoria è quella di approvare un accordo in fretta se riusciamo ad avere dei soldi meglio prenderli sporchi maledetti e subito come si suol dire e chiuderla lì lasciando da parte tutte le tematiche d'orgoglio il ma io ho perso tempo ma se sapevo ma lo sappiamo però dalla prospettiva anche contro l'interesse dell'avvocato che si occupa del giudiziale dico fondamentalmente la vera sconfitta è dover affrontare il contenzioso se io riesco a evitare il contenzioso e portarmi a casa quantomeno i danni o andare in pari ho già vinto ecco questo secondo me è doveroso precisarlo peraltro se posso aggiungere di questo che diceva Silvia c'è un altro tema io ho una sentenza tra 5 e 7 anni non è detto e vinco magari anche completamente non è detto che la mia controparte esista ancora o abbia i soldi per pagarmi perché esiste anche questa possibilità quindi non è detto che io oggi inizio un contenzioso e mi trovi alla fine ancora qualcosa perché non me ne faccio niente di una sentenza che mi dà ragione su tutti i fronti e magari condanna la mia controparte a un costico risarcimento e dopo la mia controparte non ha nulla con cui pagarmi e io non posso andare a aggredire niente perché questo nel mentre non ha più nessun nessun patrimonio quindi c'è anche questo aspetto da valutare rispetto alla convenienza della transazione e questo aspetto del tempo ovviamente io prima non l'ho detto l'ho dato per scontato forse ho sbagliato è estremamente rilevante nel penale perché capite che ci sono appunto delle delle difformità dei viti che si vedono subito io non posso depositare l'acquerela un anno dopo perché diventa nel mentre lo posso anche fare ma diventa tutto il castello poco credibile e quindi potrebbe ingenerare nel pubblico ministero anche una scarsa volontà di approfondire il tema nel senso andiamo a vedere anche il danno che mi ha creato al di là che non è chiesto dal reato non importa cerchiamo di fare le cose tempestive in modo tale che chi deve prendere in mano la faccenda e capire se è degna di essere portata avanti lo capisca anche sulla base di dati attuali quindi non ha molto senso anche se voglio dire non c'è il termine della proposizione della forella cerchiamo di essere tempestivi in tutto tanto nel momento in cui avrò fatto l'azione civile il perito me l'ha già avrà fatta la relazione quella relazione la uso per mostrare diciamo già una parte del lavoro da un solito punto di vista già pronto quindi perché non usarlo subito diciamo che un trucchetto che mi fanno fare spesso è di farmi datare la perizia il giorno che conviene è di dire che l'argoni bilancio 231 si è accorto di questa cosa quel giorno lì e che prima quel vizio lì non avendo mai usato quell'attrezzaggio particolare e quindi tutti i tempi li facciamo partire dal giorno X quando la macchina è stata comprata cinque anni prima però insalita poi però siccome i rati si consumano nel momento della consegna trovi da un'altra parte uno che dice hai sempre a che fare con le persone per il tema che dicevamo prima meglio gliela spieghi meglio è se ci sono le cose pronte perché non usarle sono le 5 sono finiti i 60 minuti che avevamo promesso vi ringraziamo per la pazienza e l'attenzione se avete delle domande mandatecele rispondiamo un po' successivamente magari facciamo qualcos'altro speriamo di essere stati utili grazie mille grazie Diana grazie Silvia grazie ciao ciao